non arrivava nessun rumore dal bosco oltre il fremito leggero della neve che cadeva sugli alberi nevicava da mezzogiorno un nevischio sottile che incipriava i rami come una schiuma ghiacciata che gettava sulle foglie morte della boscaglia un leggero tetto d'argento che stendeva sui sentieri un immenso tappeto soffice e bianco che espressiva il silenzio senza fine di quell'oceano d'alberi davanti alla porta della casa forestale una donna giovane ancora braccia nuda spaccava la legna a colpi d'accetta su una pietra era alta sottile e forte una figlia dei boschi figlia e moglie di guardie forestali da dentro casa una voce gridò siamo sole stasera a Bertin bisogna che entri è già notte forse ci sono in giro dei prussiani e i lupi la boscaiola rispose continuando a spaccare un ceppo con grandi colpi che le facevano tirar sul busto ogni movimento per alzare le braccia ho finito mamma eccomi niente paura fa ancora giorno poi tirò dentro le fascine e i ciocchi e li accattastò lungo il camino uscì di nuovo per chiudere gli scuri scuri enormi di quercia e finalmente rientrata in casa mise i robusti catenacci alla porta sua madre una vecchia rugosa che l'età aveva reso pavida filava accanto al fuoco non mi piace disse quando tuo padre fuori due donne sole non fanno granché la giovane rispose oh saprò uccidere allo stesso modo un lupo o un prussiano e mostrava con l'occhio una grossa pistola appesa sopra il camino il suo uomo era stato incorporato nell'esercito all'inizio dell'invasione prussiana e le due donne erano rimaste sole con il padre il vecchio guardiano nicolà nishon detto trampolo che aveva rifiutato ostinatamente di abbandonare la sua dimora e di trasferirsi in città la città prossima era a retel antica piazzaforte sospesa su di una roccia qui erano tutti i patrioti e i borghesi avevano risoluto di resistere agli invasori di rinchiudersi nelle loro case e di sostenere un assedio secondo le tradizioni della città due volte già sotto Enrico IV e Ligi XVI gli abitanti di retel si erano distinti per le difese eroiche avevano fatto altrettanto questa volta per dincibacco oppure si sarebbero fatti bruciare tra le loro mura dunque avevano compilato cannoni e fucili equipaggiato una milizia formato battaglioni e compagnie e si esercitavano tutto il giorno sulla piazza d'armi tutti fornai, droglieri, macellai, notai, legali, falegnavi, librai, farmacisti a turno eseguivano manovre a ore fisse agli ordini del signor Lavigne antico sotto ufficiale dei dragoni ora mercaio da quando aveva sposato la figlia ed ereditata la bottega del signor Avudan l'anziano aveva assunto il grado di comandante della piazza e poiché i giovani erano stati chiamati alle armi e facevano parte dell'esercito aveva irregimentato gli altri che si allenavano per la resistenza i grassi non andavano più per le strade se non al passo ginnastico per fondere la loro pinguedine e aumentare la loro capacità respiratoria i deboli portavano fardelli per rafforzare i loro muscoli attendevano i prussiani ma i prussiani non comparivano non erano lontani tuttavia perché due volte già i loro esploratori si erano spinti attraverso il bosco sino alla casa forestale di Nicolas Nichon soprannominato Trampolo il vecchio guardiano il quale correva come una volpe era venuto ad avvertire la città si erano puntati cannoni ma il nemico non si era mostrato la casetta di Nichon serviva da posto avanzato nella foresta d'Avlen il boscaiolo due volte la settimana andava in città per provvigioni e portava ai cittadini notizie della guerra era partito quel giorno per annunciare che un piccolo distaccamento di fanteria tedesca si era fermato da lui l'antivigilia verso le due del pomeriggio e si era allontanato quasi subito il sotto ufficiale che lo comandava parlava francese quando se ne andava così il vecchio conduceva con sé i due cani due molossi dalla gola di leone per timore dei lupi che cominciavano a diventare feroci e lasciava le due donne sole raccomandando loro di barricarsi in casa al calar della notte la giovane non aveva paura di nulla ma la vecchia tremava sempre e ripeteva finirà male vedrete che finirà male quella sera era ancora più preoccupata del solito sai a che ora ritornerà tuo padre domandò non prima delle undici certamente quando cena dal comandante ritorna sempre tardi la giovane donna si accingeva ad appendere la marmitta sul fuoco per fare la minestra quando ad un tratto si arrestò ascoltando un rumore vago che le era giunto dal tubo del camino mormorò qualcuno cammina nel bosco sono sette otto uomini almeno la madre spaventata fermò l'arcolaio balbettando oh mio dio e tuo padre che non è qui aveva appena finito di parlare che alcuni colpi violenti fecero tremare la porta poiché le donne non rispondevano una voce forte e gutturale gridò aprite indi dopo un silenzio la stessa voce riprese aprite o sfondo la porta Bertain fece allora scivolare nella tasca della gonna la grossa pistola del camino e dopo aver avvicinato l'orecchio alla porta chiese chi siete siamo al testaccamento dell'altro giorno la donna riprese che cosa volete sono per tutto da questa mattina nel bosco con il mio ti staccamento aprite o sfondo la porta la boscoiola non aveva scelta fece scorrere rapidamente il grosso chiavistello poi tratto a sé il pesante battente scorse nell'ombra pallida della neve sei uomini sei soldati prussiani quelli stessi che erano venuti giorni prima disse con un tono risoluto che cosa venite a fare a quest'ora il sott'ufficiale ripete sono per tutto interamente per tutto ho riconosciuto la casa non ho manciato nulla questa mattina il mio ti staccamento nemmeno Bartè non servò sono sola con la mamma questa sera il soldato che sembrava un braquamo rispose non fa nulla non farò male ma ci terete da manciare cattiamo ti fame e ti fatica la boscaiola indietreggiò entrate disse gli uomini entrarono incipriati di neve marcandosi il mette una specie di spuma che li faceva assomigliare a meringhe sembravano stanchi estenuati la giovane donna mostrò i due banchi di legno ai lati della grande tavola sedetevi disse vi farò la minestra si vede che avete un grande appetito poi richiusi i chiavistelli della porta mise dell'altra acqua nella marmita vi gettò ancora burro e patate poi staccato un pezzo di lardo appeso al camino ne tagliò una metà che tuffò nel bollito i suoi uomini seguivano tutti i suoi movimenti con la fame accesa nei loro occhi avevano deposto in un angolo i fucili e gli elmi e attendevano saggi come bambini sui banchi di una scuola la madre si era messa a filare lanciando ogni tanto sguardi smarriti sui soldati invasori non si odiva altro che lo scricchio li ho lieve dell'arcolaio e crepitì del fuoco e il mormorio dell'acqua che bolliva ma ad un tratto un rumore strano li fece tutti sussultare qualche cosa come un soffio rauco sotto la porta un ansito ferino forte e sibilante il sotto ufficiale tedesco aveva fatto un balzo verso i fucili la boscaiola lo fermò con un gesto e sorridendo sono i lupi disse sono come voi gironzolano e hanno fame l'uomo incredulo vuole accertarsi e come battente fu aperto scorse due grandi bestie grigie che fuggivano con un trotto rapido e agile ritornò a sedersi mormorando non affrei creduto e appese che la minestra fosse pronta la mangiarono voracemente con bucche spalancate fino agli orecchi per inghiottirne di più con occhi rotondi che si aprivano nello stesso tempo delle macelle e rumori di gola simili al gorgoglio delle grondaie le due donne mute guardavano i rapidi movimenti delle grandi barbe rosse e le patate avevano l'aria di ingolfarsi in quelle selve vellose semoventi ma poiché avevano sete la boscaiola discesa in cantina a spillare il sidro vi rimase lungamente era una piccola cantina a volta che durante la rivoluzione era servita da prigione e da nascondiglio si diceva vi si scendeva mediante una stretta scala a chiocciola chiusa in alto da una botola che metteva nella cucina appena Bertin riapparve già rideva rideva da sola con un fare sornione offrì ai tedeschi la mezzina piena di bevanda poi ce n'ò anche lei con sua madre all'angolo della cucina i soldati avevano finito di mangiare e si addormentavano tutti e sei intorno alla tavola di tratto in tratto una fronte cadeva sulla tavola con un rumore sordo poi il buomo risvegliato di soprassalto si raddrizzava Bertin disse al sotto ufficiale dormite dinanzi al fuoco c'è posto anche per sei io mi arrampico nella mia stanza con la mamma e le due donne salirono al primo piano furono intese chiudersi a chiave camminare per un po' poi non fecero più alcun rumore i tedeschi si distesero sul pavimento con i piedi verso il fuoco la testa appoggiata sui loro mantelli arrotolati e russarono in breve tutti e sei su sei toni diversi acuti o gravi ma continui e formidabili dormivano certo da molto tempo quando un colpo d'arma da fuoco eccheggiò così forte che si sarebbe ritenuto sparato contro i muri della casa i soldati si drizzarono di colpo ma due nuove detonazioni rintronarono seguite da altre tre la porta del primo piano si aprì d'improvviso e la boscaiola parve a piedi nudi in camicia con un corto gonnellino una candela in mano e il viso spaventato malbettò sono i francesi sono almeno in duecento se vi trovate qui bruceranno la casa scendete in cantina subito e non fate rumore se fate rumore siamo perduti e sotto ufficiale sgomento morborò iaia per toffe bisogna ti scendere la giovane donna sollevò con primurosa rapidità la botola stretta e quadrata e i sei uomini scomparvero dalla piccola scala a chiocciola ingolfandosi nel suolo l'uno dopo l'altro a ritroso per ben individuare i gradini ma quando la punta dell'ultimo elmo fu scomparsa Bertin calò la pesante asse di quercia spessa come un muro dura come acciaio fissata da cerniere e da una serratura di prigione chiede due lunghi giri di chiave poi si mise a ridere di un riso mutuo e soddisfatto con una voglia pazza di ballare sul capo dei prigionieri non facevano alcun rumore chiusi là dentro come in una scatola solida una scatola di pietra che non riceveva l'aria se non da uno spiraglio guarnito di sbarro e di ferro la donna riaccesse il fuoco vi rimise sopra la marmitta e rifece la minestra mormorando il babbo sarà stanco questa notte poi sedette e attese solo il bilanciere il sonoro dell'orologio ripeteva nel silenzio il suo tic tac regolare ogni tanto la giovane donna gettava uno sguardo sul quadrante uno sguardo impaziente che sembrava dire non va molto in fretta ma presto le sembrò che si mormorasse sotto i suoi piedi parole basse confuse le pervenivano attraverso la volta in muratura della cantina i prussiani cominciavano a indovinare la sua astuzia e il sotto ufficiale risalì di lì a poco la piccola scala e venne a battere col pugno alla botola gridò di nuovo aprite e la si alzò si avvicinò e imitando il suo accento che cosa volete aprite non apro l'uomo si adirava aprite o sfondo la porta e si mise a ridere sfonda bravo uomo sfonda bravo uomo e lui cominciò a battere col calcio del fucile contro la botola di querza chiusa sul suo capo ma essa avrebbe resistito ai colpi di una catapulta la boscaiola lo udì ridiscendere poi i soldati vennero uno dopo l'altro a fare tentativi con forza a spezionare la botola ma giudicando senza dubbio i loro tentativi inutili ridiscesero tutti nella cantina e ricominciarono a parlare tra loro la giovane donna li ascoltò poi andò ad aprire la porta dal di fuori e tese l'orecchio nella notte le giunse un abbaiare lontano si mise a fischiare come avrebbe fatto un cacciatore e quasi subito due enormi cani sbucarono dall'ombra e le balzarono incontro saltellando e la li presi per il collo e li trattenne per impedir loro di correre poi gridò con quanta voce aveva uè babbo una voce rispose molto lontana ancora uè bertain attese qualche secondo poi riprese uè babbo la voce più vicina ripete uè bertain la boscaiola avvertì non passare davanti allo spiraglio ci sono tedeschi in cantina e improvvisamente la grande figura dell'uomo si disegnò tra due tronchi d'alberi e gli domandò inquieto tedeschi in cantina che cosa fanno la giovane donna si mise a ridere sono quelli dell'altro ieri si erano perduti nella foresta li ho messi al fresco in cantina e raccontò come i fatti si erano svolti come aveva spaventato i tedeschi con i colpi di pistola e come era riuscita a imprigionarli nel sotterraneo il vecchio sempre grave domandò che cosa vuoi che ne facciamo a quest'ora lei rispose andrai a cercare il signor Lavigne con i suoi militi li farà prigionieri sarà contento e il vecchio Nishon sorrise è vero sarà contento la figlia riprese c'è la minestra mangiala presto e poi riparti il vecchio guardiano si mise a tavola e prese a mangiare dopo aver deposto a terra due piatti colmi per i suoi cani i prussiani udendo parlare avevano taciuto trampolo ripartì un quarto d'ora dopo e Bertin la testa tra le mani attese i prigionieri ricominciavano ad agitarsi gridavano ora chiamavano battevano incessantemente e erosamente col calcio dei fucili la botola che non si scardinava poi si misero a sparare colpi di fucile dallo spiraglio della cantina sperando senza dubbio di essere intesi da qualche distaccamento tedesco che fosse passato nei dintorni la boscaiola non si muoveva più ma tutto quel rumore la snervava l'irritava un'ira cattiva si destava in lei avrebbe voluto assassinarli quei tangheri per farli tacere e poiché la sua impazienza aumentava si mise a guardare la pendola a contare i minuti il padre era partito da un'ora e mezzo aveva raggiunto la città ora lei credeva di vederlo raccontava il fatto al signor Lavigne che impallidiva per l'orgasmo e suonava per avvertire la domestica perché gli portasse l'uniforme e le armi lei udiva le sembrava il segno del tamburo che percorreva le strade le teste spaventate comparivano alle finestre i soldati cittadini uscivano dalle loro case appena vestiti trafelati abbottonandosi le cinture e partivano con passo ginnastico verso la casa del comandante poi la truppa trampola in testa si metteva in marcia nella notte sulla neve verso la foresta guardava la pendola possono essere qui tra un'ora un'impazienza nervosa li invadeva i minuti riparevano interminabili com'era lunga quell'attesa finalmente il tempo che aveva fissato per il loro arrivo fu segnato dalla sfera aperse di nuovo la porta per ascoltarli venire scorse un'ombra che procedeva con precauzione ebbe paura lanciò un grido era suo padre lui disse mi mandano per vedere se non vi è nulla di cambiato no nulla allora lui lanciò a sua volta nella notte un fischio striduro e prolungato e subito si vide una cosa bruna avanzare lentamente sotto gli alberi l'avanguardia composta di dieci uomini trampolo ripeteva ad ogni istante non passate davanti allo spiraglio e i primi arrivati mostrarono ai sopraggiunti lo spiraglio temuto il grosso della spedizione comparve allora duecento uomini in tutto recanti ciascuno duecento cartucce il signor Lavigne agitato fremente li dispose in modo da cerchiare da ogni parte la casa lasciando un largo spazio libero davanti al piccolo pertugio nero a fior di terra da cui la cantina prendeva aria e luce poi entrò nell'abitazione e si informò della forza e dell'atteggiamento del nemico divenuto talmente muto che si sarebbe potuto crederlo scomparso svenito volato via dallo spiraglio il signor Lavigne batte col piede la botola e chiamò signor ufficiale prussiano il tedesco non rispose il comandante riprese signor ufficiale prussiano in vano per venti minuti egli intimò a quell'ufficiale silenzioso di arrendersi con armi e bagagli promettendogli salva la vita e gli onori militari per lui e per i suoi soldati ma non ottenne alcun segno di consenso o di ostilità la situazione diventava difficile i soldati cittadini battevano le suole nella neve si battevano le spalle con grandi manate come fanno i cocchieri per scaldarsi e guardavano lo spiraglio con una voglia crescente e puerile di passarvi davanti uno di essi al fine vi si arrischiò un tale chiamato potven che era molto agile prese lo slancio e passò correndo come un cervo il tentativo riuscì i prisionieri sembravano morti una voce gridò non c'è nessuno e un altro soldato attraversò lo spazio libero innanzi al pertugio pericoloso fu allora un divertimento di minuto in minuto un uomo slanciandosi passava da un gruppo all'altro come fanno i ragazzi nella corsa detta della barra e lanciava dietro di sé zacchere di neve tanto muoveva rapidamente i piedi si erano accesi per scaldarsi i gran fuochi e il profilo corrente della guardia nazionale appariva illuminato durante il veloce tragitto dal campo di destra al campo di sinistra qualcuno gridò a te maluazon maluazon era un grosso fornaio aveva una gran pancia motivo di riso per i compagni esitava fu canzonato allora risolvendosi si mise in moto con un breve passo ginnastico regolare e trafelato che gli scoteva il grasso ventraccio tutto il distaccamento rideva sino alle lacrime gridavano per incoraggiarlo bravo bravo maluazon giunse circa a due terzi del tragitto quando una fiammata lunga rapida e rossa sprizzò dallo spiraglio una detonazione che zò e il voluminoso fornaio si abbatté prono con un grido spaventevole nessuno si slanciò per soccorrerlo egli si trascinò carponi sulla neve gemendo e quando fu uscito dal terribile passaggio svenne aveva una pallottola conficcata nel grasso della coscia dopo la prima sorpresa e il primo spavento un nuovo riso si alzò ma il comandante la vigna apparve sulla soglia della casa forestale aveva studiato il suo piano d'attacco ordinò con una voce vibrante lo stagnino planchou e i suoi operai tre uomini si avvicinarono spiombate le grondaie della casa e dopo un quarto d'ora furono recati al comandante venti metri di grondaia il signor Lavigne fece allora praticare con mille precauzioni un piccolo foro rotondo all'orlo della botola e sistemando un condotto della tromba idraulica sino a tale apertura dichiarò con un piglio di grande soddisfazione offriremo da bere ai signori tedeschi un urrà frenetico di ammirazione scoppiò seguito da urla di gioia e da pazze risate e il comandante costituì alcuni drappelli che ci sarebbero alternati ogni cinque minuti al lavoro poi comandò pompate e quando il volante di ferro fu messo in movimento un piccolo rumore scivolò lungo i tubi ed iscese tosto nella cantina di gradino in gradino con un mormorio di cascata attesero un'ora trascorse poi due poi tre il comandante febbricitante passezzava nella cucina applicando ogni tanto l'orecchio a terra cercando di indovinare ciò che faceva il nemico chiedendosi se avrebbe subito capitolato il nemico ora si agitava lo scediva muovere i barili parlare sciagguattare poi verso le otto della mattina una voce uscì dallo spiraglio voglio parlare al signor ufficiale francese la vigne rispose dalla finestra senza tuttavia sporgere troppo la testa vi arrendete mi arrento allora buttate i fucili e si vide in breve un'arma uscire dal foro e cadere nella neve poi due tre tutte le armi e la stessa voce dice non ho più spicciatevi stiamo affocanto il comandante ordinò cessate il volante della tromba ricadda immobile e riempita la cucina di soldati che attendevano l'arma al piede il comandante sollevò lentamente la botola di quercia alcune teste apparvero inzuppate teste bionde dai lunghi capelli pallidi e si videro uscire uno dopo l'altro i sei tedeschi intirizziti gocciolanti sgomenti vennero afferrati e ben legati poi siccome temevano una sorpresa tutti ripartirono subito in due gruppi l'uno che conduceva i prigionieri e l'altro che conduceva maloson su materasso posato su alcune pertiche rientrarono trionfalmente a Retel il signor Lavigne fu decorato per aver catturato un'avanguardia prussiana e il pingue fornaio ebbe la medaglia militare per la ferita riportata di fronte al nemico